L'evento da non perdere Sabato 17 luglio 2010 Le Garden Disco Strada Statale 173 per San Giovanni Rotondo Info tavoli 349-1965-733 Info liste 347-1803-276 Le Garden Disco 2010 L'evento da non perdere Radio Partner Rete Smash Gargano FM 97.5 Decidi di passare assieme a noi anche questo weekend Il sabato più esclusivo del Gargano E' targato Le Garden Disco Grazie a tutti Grazie a tutti